Guardate che amore ci ha mostrato Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Lui è morto per noi giusti. Lui che era giusto morì per gli giusti e per i peccatori. Era caldo amici. Perché tutti noi siamo peccatori. Noi tutti siamo peccatori. E siamo primi nella gloria di Dio. Alleluia. Ma siamo stati, Re Colobo, ungi il fratello con potenza. Siamo stati gratuitamente giustificati dai nostri peccati. Grazie al sacrificio che Gesù Cristo fece circa duemila anni fa per ognuno di noi. Alleluia. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato dalle nostre visite. Amen. Gesù, tale persona, è il salvatore del mondo. Tocca ogni cuore, Padre. Lui è l'unico che ci amo nella mente. Gesù ancora oggi è vivente. Il figlio di Dio risuscitò il terzo giorno. Amen. Lui è vivente. Alleluia. Lui è leale. Lui non mente. Amen. Gesù lo dite. Spandito, spandito fuori. Spandito fuori. Chiedete e vi sarà dato. Prega con cuore, Signore. Grazie, Padre. Tocca ogni cuore. E con umiltà. Oggi rivolgi la tua preghiera al Signore. Entra nella tua camera. Chiudi la porta della tua stanza e rivolgi la tua preghiera a Gesù Cristo. Perché il figlio di Dio oggi ascolterà la tua preghiera. Gloria a Gesù Cristo. Chi cerca trova, cari. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Cari carissimi, l'unico che può darti la vera gioia, la vera pace, è Gesù Cristo. Perché Gesù lo disse. Io vi lascio la mia pace e vi moro la mia pace. Non come verrà da questo mondo, cari, è la verità. In questo mondo non c'è pace. In questo mondo scendiamo. Ci sono i peccati, ci sono le tenebre. Ma Gesù Cristo vengi a salvare ciò che era perduto. Alleluia. Gesù Cristo vengi a salvare ciò che era perduto. E in questo pomeriggio Gesù Cristo vuole salvare la tua anima dalla tua nata. Questo pomeriggio Gesù Cristo vuole salvare la tua anima dall'invento, dall'invento, dall'invento e dall'invento. Come esiste il bene, esiste anche il male. Come esiste Dio, esiste anche Satana. Ma la Bibbia lo dice. Venite a me. Voi tutti attravagliati, aggravati. E io vi darò riposo. Gesù Cristo è il vero riposo per la tua anima. Gesù Cristo è la vera pace. Carissimi, ascoltate questo messaggio perché ci faranno bene. Giù Cristo è il vaccino. Senti a� raffachare il mondo del mondo. Che por prendere. Esste a un altro team per stepso. Cosa gara di mare? Ciao, chi nonfé? Grazie a tutti. È subito. Sicurico buona... Sc同 Program... installe! Grazie a tutti.